La lista civica di minoranza per Clusone ha presentato un'interpellanza riguardante una decisione della Giunta che riguarda l'affidamento del servizio di supporto nell'attività di accertamento tributario ad una cooperativa sociale. Quali sono le vostre perplessità a proposito? Allora, innanzitutto mi si è concesso una precisazione, il ruolo della minoranza. Noi siamo minoranza in Consiglio Comunale e aspetta a noi interrogare, interpellare, controllare il lavoro della Giunta e del Consiglio Comunale perché siamo lì in rappresentanza dei cittadini. Quindi quando questo lo facciamo è perché ci siamo sempre preventivamente documentati quindi spiace qualche volta constatare che il Sindaco alle interpellanze risponde in modo evasivo come quando alla televisione risponde nel merito della pista ciclabile che è tutto a posto. Noi abbiamo semplicemente segnalato che si è dimenticato due tratti importantissimi che se non vengono realizzati non collegano la pista a Clusone. Abbiamo segnalato che se non fa quei tratti perde 50.000 euro di contributo. Il Sindaco ci dice ma li userò per fare l'arredo ma l'arredo è di poco più di 5.000 euro e 40.000 sostanzialmente sono persi così come sono stati persi 32.500 euro assegnati al Comune di Ponte Nossa che insieme al Comune di Clusone doveva fare la progettazione della variante Clusone-Ponte Nossa e che nessuno ha utilizzato e che adesso invece vanno sulle normali manutenzioni da parte di comunità montana. Ciò detto è nel merito della domanda che lei mi ha fatto. È vero, abbiamo interpellato dopo aver visto una delibera di giunta del 4 dicembre scorso con la quale la giunta comunale assegnava una cooperativa di Brescia. Il recupero dell'illusione dell'evasione a Clusone la cosa che ci ha immediatamente colpito è A. Il fatto che questo affidamento non sia stato discusso in Consiglio Comunale B. Il fatto che sia stato attribuito a questa società il recupero di un'evasione per un importo pari a 195.000 euro che considerato che è il 26% significa che a Clusone c'è un milione di evasione quindi siamo sostanzialmente per questa giunta tutti evasori e la stessa poi giunta che da un lato aumenta continuamente l'IRPEF e dall'altro poi spende all'esterno questi soldi quando forse questo lavoro poteva essere fatto anche dai dipendenti dell'ufficio ragioneria in accordo con l'ufficio tecnico visto e considerato che questo lavoro si sta già facendo e anche molto bene ma quello che ci ha poi preoccupato è l'assegnazione a questa cooperativa non attraverso gara ma con un affidamento diretto precisato che la norma prevede che a 200.000 euro soglia comunitaria la gara è d'obbligo non riusciamo a capire perché si è stabilito la soglia massima 195 non dichiarando con IVA o senza IVA ma in più dichiarando invece che poi nel biennio si potranno assegnare a questa cooperativa comunque altri servizi bypassando in questo modo ovviamente in una modalità certamente inconsueta la norma e quindi abbiamo semplicemente chiesto e ottenuto che la delibera fosse sospesa noi avremmo provvisoriamente sospeso la interrogazione in attesa che la Corte regionale di controllo dica non sostanzialmente chi ha ragione ma dica se il procedimento adottato da questa amministrazione è stato corretto noi riteniamo di no ed è non è la prima volta che sospettiamo che i procedimenti non siano tutti corretti Per quanto riguarda il progetto della realizzazione della pista ciclopedonale che collegherà Clusione con Piario voglio ricordare il consigliere Moioli e il gruppo di minoranza che rappresenta che trattasi di una strada a servizio dei pedoni e delle biciclette non è sicuramente un'autostrada e teniamo presente che all'interno della pineta se si vuole parlare e si parlerà in un altro contesto di riqualificazione esiste una flora o una fauna e non vorremmo che la fauna in oggetto e faccio un brevissimo esempio i caprioli e i coligli selvatici si dovessero munire di patili oppure fare un corso per imparare i segnali stradali Riconduciamolo dunque a quello che è un tratto in questo contesto e sarà fruibile solo ed esclusivamente per questo motivo i 32 mila euro girati dal Comune di Ponte Nossa cioè restituiti dal Comune di Ponte Nossa alla comunità montana andranno a beneficio della manutenzione del tratto di pista ciclopedonale tra Clusione e Ponte Nossa tenere fermi i 32 mila euro in questo momento in cui le risorse sono scarse per un'ipotetica variante Clusione e Ponte Nossa che sappiamo è importantissima ma che doveva essere affrontata nei tempi in cui le risorse c'erano e ricordo brevemente che il consigliere Moiole all'epoca assessore, penso assessore quasi al tutto sia in Comune che in Comunità montana è riuscito a sottoscrivere solo per il Comune di Clusione 17 milioni di euro di mutui che adesso la cittadinanza e per conto l'amministrazione sta pagando non ha posto la base per la realizzazione di questo progetto infine per quanto riguarda la debita di giunta che ha affidato alla cooperativa il recupero e l'evasione legata a lici degli anni pregressi e della tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani dobbiamo ricordare che noi non riteniamo assolutamente che tutti i clusonesi siano evasori fiscali l'unico che si è permesso in Consiglio Comunale di dire una cosa del genere rivolto soprattutto a determinate categorie è stato proprio lui sostenere che non bisognava mettere le mani nelle tasche dei clusonesi andando a recuperare i soldi dagli evasori fiscali contraddice quello che sostiene il capogruppo di minoranza Moioli inoltre eravamo d'accordo che si doveva aspettare la risposta della Corte dei Conti a cui abbiamo sottoposto il quesito sulla eventuale illegittimità di una delibera di giunta di questo tipo che noi invece riteniamo legittima a tutti gli effetti e non ci sembrava il caso di andare a fare la polemica oppure il giudice che decide prima degli altri mi sembra una mancanza di modestia da parte del Consigliere Moioli poi volevo concludere dicendo che più che una critica all'amministrazione mi sembra uno spot elettorale ma la cosa grave è che uno spot elettorale non ha pagamento è che uno di iostri è che uno di iostri